Tordi Sanziani, non corrono il numero 4, mi fisco dire, e il numero 13, Lavinium, corsa molto incerta, partenza che vede l'errore puntuale di Landerodi, hanno segnalato le sue difficoltà nelle false partenze, difficoltà che sono state confermate dalla partenza valga, dunque esce di scena una delle partenze di Landerodi e dall'esterno è proprio un'armona jet che riesce ad assumere il comando, potrebbe essere davvero l'occasione nuova per Buona, per la cavallo di Alfonso Locascio, affidata a Luciano Messino Junior, in seconda posizione leggenda del nord, mentre per l'esterno prova a farsi luce il numero 12 di l'esito di Azzurra, in interiore Antonino Longo, cavallino che aveva ben impressionato in campatura, ma che presenta un curriculum recente davvero sconfortante, un tifo, l'esito di Azzurra e riesce a sfondare a passaggio davanti alla tribuna, quindi il nuovo battistrada nei confronti di Narbola Jet, che essendo già in difficoltà abbastanza incomprensibilmente, di fuori si fa luce la leggenda del nord, nella cuscia c'è Mercury Daini, i cavalli vanno ad affrontare la penultima curva con Lutzider, Lutzider, l'esito di Azzurra, che comanda le operazioni, seguita da Narbola Jet, che sembra essersi ripresa dal momento di crisi, di poco anzi, di fuori leggenda del nord, non riesce più a progredire, anzi comincia a calare, ecco sì, Narbola Jet adesso la destra libera, mentre lungo la torba filtra anche il numero uno di Menelao Ferma, adesso sposta Narbola Jet, si è stata in maniera molto decisa da Luciano Messina U, il numero tende a passare, ma si è passato anche Mercury Daini, più a largo arriva anche la Fayette M, i cavalli affrontano l'ultima curva, sembra ormai in difficoltà, l'esito di El Durra, scalattato da Narbola Jet, che a sua volta sembra poco arriattiva nei confronti dei cavalli che la stanno attaccando all'esterno, ovvero Mercury Daini e la Fayette M, soprattutto Mercury Daini dà l'impressione di poter riscattare l'ultima disavventura, prova a reggire Narbola Jet, ma resiste con la testa davanti, ma sbaglia Mercury Daini, ecco sì, arriva la sospirata vittoria per Narbola Jet, Narbola Jet la guida e...